Allora, qualcuno si domanda, dice, mo mi riprendo stessi frattolini, cosa mangiano? Mo vi faccio vedere cosa si mangiano allora. Barrette, con legnetto per fargli rinforzare i dentini. Poi, piccolo. Siamo in casa. Lei è ciocchina. E lui è Roccociò. Di solito la più paurosa è ciocchina. Roccociò è un po' più coraggioso, però oggi. Questa è la loro amaga, eccola qua. Roccociò. Rocco. Rocco. Poi, che cosa altro mangiano? Mangiano... Speedy. Mangiano... Cleb. Mangiano... Barrette energetiche. Barrette energetiche. Stick golosi. Noci e miele. Insomma, mangiano meglio di noi. E sono diventati anche i beniamini del quartiere. E la mattina vengono le mamme con i piccolini che li fanno vedere. vero, piccolo? Mario fuggiero. Questa è sempre la femminuccia. Ciocchina. Ciocchina. Salutare? Salute che andiamo. Ciocchina. Piccola. Saluta. Ciao. Ciao. Ah, mi ero dimenticato. Caspita. Questi sono i biscottini golosi. Crispy snack. Che oggi ce li ho messi nel preparato. Insieme alle nocciole, alle noci, alla banana, alle fave. Guardate qua, come sono agili, guardate. Piccolo. Ciao. Dici ciao? Andiamo via.